Ciao a tutti ragazzi, scusate ma se parlo in ritardo mamma youtube, me l'ha acceso adesso il coso Porto oggi l'apertura di Treadpack e l'altro ieri in AO5 ho sculato il KAUSTAG e in AO3 il GAYBULG Apriamo subito che devo andare, che ho il compleanno, il mio LOL, l'arion team, yeah Partiamo da Xtreme Victory, solo una rara Onda d'Urdo Oh mi serve a guerrire la molla, dove sforzatore mi serve Cavaliere mi serve O4 dove spero Trishla, cerco Trishla e Brionac No niente, vabbè Ciao ragazzi